Sop, perché in pratica ha una zampa dentro la bocca, cioè dentro la guancia, e tu l'hai visto, e tutto, e poi ce n'abbiamo un altro. Io ho sempre cipollino, cipollino docet. La più grande cazzata che hai fatto? Non si dice. No, io dico raga, ho paura. Qual è la più grande cazzata che ho fatto? Ti guarda che abbiamo trovato la tartaruga? Eh sì, è anche la tartaruga che in pratica l'abbiamo trovata su un ciglio della strada, era tipo grossa così, era quanto tipo l'Apple Watch da 42 mm, mm, ed adesso è diventata così. Ragazzi giuro, è quanto la mia faccia. Ecco, anche lì. Si stanca, oh. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, leggila cosa. Sei sposata. Stanta. Ah, ho capito, sono sposata. Quante volte hai fatto after? Troppe. Tante, tante. È una, ieri. Lunedì, sabato, venerdì. Venerdì, no. Venerdì, hai fatto il panor. Ah sì, ieri. Ieri? Ieri? Eh sì, era ieri. Ragazzi, io e mio papà non, cioè non riusciamo più a condizionare il tempo perché io sono stata soglia tutta la notte e io ogni 5 minuti lo svegliavo. E quindi, però mia mamma si è messa a dormire. Vai, poi? Con chi? Con i miei amici. Con i miei amici e da sua. Ginnastica ritmica o artistica? Boh, io penso che non fare nessuna delle due. Però da vedere penso artistica. Artistica, perché l'ho fatta. Calcio, calcetto, calcio. Calcio. McDonald's o Burger King? Mac. Mac tutta la vita. Anche il Burger King, non mi dispiace comunque. La miglior frase che tu abbia mai sentito? Ti amo. È una frase. No, beh, in realtà anche altre, cioè. No, secondo me sono tutte molto... Cioè, in realtà comunque non è che puoi selezionarla. Esatto, sì. Sono tante belle che ti dicono, quindi. E poi ci devi pensare. Anche sì. Beh, certe cose. Sono partono inside, diciamo. Diresti la prima cosa che ti viene in mente è quando sono arrabbiata sempre. Ma penso tutti, quindi. Quando ho litigato con una mia amica. No, cosa? Di resti, la prima cosa che ti viene in mente. Sì, cioè, no, comunque quando sono arrabbiata. Gusto di gelato preferito? Eh, menta. Allora, a me non piacciono i gelati. E se devo dirlo... No. Non tanto. Se devo proprio decidere... No, non so, raga. Il cioccolato è buono. È il dubbio. Cioè, no, no, non ci sono secondo me i gusti preferiti. Nel caso il croccantino. Croccantino. Il croccantino. Non del cane. Gusto di pizza preferito. C'è proprio scritto gusto. Che ha spiegato a scrivere. Gusto di pizza preferito. No, non è che ho sbagliato a scrivere. No, è sbagliato. È sbagliato. Che è smonco. È il letto. Io penso con lo speckle brie. Cioè, anche se non lo prendo mai. Però è buonissimo. Cioè, le poche volte che lo prendo è sempre... Io... Salame piccante. Una bella diavola, allora. Patatine. Eccola. Senza mozzarella. Piacciutto cotto. Le più semplici, diciamo. Senza funghi, senza niente. Bleh. Pioggia o neve? Neve. Neve. Sì, neve. Guarda che bella nuvola. C'è proprio... Vedo? C'è un... Un cielo bellissimo. Non si vede, però è figo. Non si vede, però è bellissimo. Yolo. No. Cos'è Yolo? Ehi, tipo l'esclamazione Yolo. Yola da Hiku. Tipo dire Yolo figo, forse. Non lo so, c'è un modo di dire Yolo. Però io non lo dico mai, quindi no. Ma non so neanche cosa vuol dire, quindi no. Perché non so cosa vuol dire, a prescindere. Hai mai dormito con un ragazzo. Barra ragazza. Sì. Sì, certo. Certo. Hai mai comprato degli ambulanti? Dagli ambulanti. Dagli ambulanti? Ah! Dei. Degli ambulanti. Eh, sì. Devo comprare. Sì. Sì. Sì, no, sì, sì. Sono simpatici. Sì. Dai, è vero, a volte sì. A volte. Che squadra tipi? Tipo l'Unione Calcio Sampdoria, in quanto sono nata a Genova e tipo Sampdoria. Io... Inter. Il tuo primo videogioco a cui hai giocato? Videogioco? Boh, forse è Super Mario. Videogioco, uno dei pinguini, dove tu ti devi muovere. È un gioco della Wii, che ho giocato a casa sua. Sì, è Capodanno. Che in pratica... Però è di tanti anni fa, molti anni fa. Tipo quando avevo sei anni. No, no, vabbè, non sei anni. Vabbè, è un po' di tempo. Comunque videogioco alla Wii, quello. E poi, se no, vabbè, comunque è sul Nintendo. Il primo canale YouTube a cui ti sei iscritto. Io penso... Al mio, giusto? No. No, vabbè, il tuo dopo. Però...